secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di guarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie perché sono ubriaco non ho paura di fare niente di cosa adesso la apri gabri tu quanti 50 che stai che qua milano non ho capito mercoledì allora o domenica o lunedì o martedì sera domenica domenica faremo il tatuaggio ok il tatuaggio in live dai ma dobbiamo farlo guarda che è già morta quello il format qua è mio che simone l'ha pensato mesi fa è cambiato hai mai finto un'amicizia con qualcuno solo perché ti tornava comodo per far più numeri sui social no amicizia no magari che cercavo magari quella persona di vedere quella persona per fare qualcosa ma perché io lo metto ce l'ho detto anche pubblicamente non l'ho capita ragazzi ah beh ecco tu dove che abiti no milano sì 6 mesi di convivenza ancora fare sesso due volte passa al giorno i cazzi è una media che veramente anzi cioè sono contentissimo per voi e rispetto avete un po di dipendenza dal sesso alice sei un po dipendente dal sesso no mi piace basta ma non è una cosa no ma passione ma le donne magari quelle un po più femministe un po più sì infatti vedrà appena esce l'opisodio di primo appuntamento vedrai ah l'hai lanciata così la bomba vedrai l'hai lanciata così la bomba ma lo sanno già grazie alle micheli grazie mille quindi mi raccomando scrivete a fedeyu aspetta che mando il link a fedeyu perché sennò effettivamente faccio la solita troiata di ogni giorno allora fedeyu fedeyu basta zio a scorreggiare io non ce la faccio più allora chi ha visto il video sa chi ha visto no vabbè chi ha visto il video sa oddio che strano la vede no vabbè ma veramente raga ma come voi non potete capire perché sta reagendo così cioè chi ha visto il video lo capisce ma cazzo ragazzi è incredibile siamo stati bravissimi facciamo così ti rispondo alla tua no non so di non essere così no no so di non essere eh no qui la macchina dice il contrario ma veramente non lo sentite in chat che dice che detto qui la macchina dice il contrario Luca dimmi tu che stai leggendo mi sembra veramente strano perché il microfono è acceso ma no ma è rivolto ma sì ma zio ma lo si sente se parla ma io invece so posso chiedervi quanti editori avete no ma una cosa importante una cosa no dai dì poverino dai un secondo sto provando no dai ne abbiamo quanti ne abbiamo eh Arianna Arianna scusami Arianna Arianna Cristiano l'hai contata due volte Arianna perché sono due Arianna Poglione Poglione nooo scherzo Arianna Arianna ehm Cristiano Cristiano Ana eh vabbè raga cioè io sono scurrile lo so cosa devo farci a me piace no no ma ci sta eh che ti piace però sai eccomi mamma mia mamma mia cosa hai fatto no 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 vi prego voglio la clip di questa cosa già cosa hai detto era perfetto era perfetto King è scritta una roba che non ha senso nemmeno italiano per favore alzati e imita uno scontro a mani nude con un delfino e fa il verso del delfino mentre ti colpisce perché che cazzo vuol dire non lo so te lo cambio ti chiedo comunque il gesto teniamolo ok il gesto il tuo riso intendi quello è un tot il tuo riso sì 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 ma così l'ho spoilerato tutta la chat ok se non è uscito mi fa ancora più ridere buonissimi ma raga ma io non è possibile non spoiler e fa tutto possibile tutto possibile no fidati vai avanti c'è tutta una parte in cui se vuoi se no te lo guardi dopo però c'è possiamo anche finire qua però è tutto mega così cioè ragazzi posso dire pollo pollo è vero c'è letto di scriverti pollo pollo cocco per il culo complimenti per la vittoria del Milan grande squadra ciao telefono telefono televisore pone capello lui però eri molto sperava che proprio ci credevi tanto in quel tiktok non so come dire sembrava proprio perché poi l'ho messo due volte cioè due ne ho messo non bastava uno ho messo due e ti faccio quest'altra domanda molto importante riguardo a questo argomento dimmi quando sei pronto adesso il live non va bene lascio perdere l'abuso tu sei uno di quelli in corruzzina invece così non lo so due su dieci non aveva senso comunque ma dissociati da cosa ti devi dissociare hai fatto una battuta su un disabile a me è una cosa che dà fastidio quando non si riesce a portare avanti un argomento c'è una cosa più bella di sempre nella mia vita che l'hai fatta tre volte perché hai fatto lui non so se si è sentito scusate mi stavo dicendo ok 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 allora allora ci siamo ma che cazzo fai è una nutrizionista no no dai no no perché è verde cioè io non so allora è verde sofia e a me era già capitato però verde così in tutta onestà non sento scusami parliamo di prostitute secondo te luca chi va? no siamo andato assieme nella settimana scorsa non avrebbe bisogno alice vorrei tornare sul tuo rapporto con l'amore credi nell'amore? sono io quindi lei non può scegliere vabbè ok vai scusa qual è la tua posizione preferita a letto? bonus quali sono le tue posizioni preferite a letto? no 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 non vale vale una cosa chat vale no per me non vale vale se i chat scrivono vale vale no per me non vale no il bonus scusami che cazzo siete? cosa dici tu? che cazzo fai? che cazzo fai? sono in diretta non parlare signore tu stai dici però dici sono in diretta dai ma non è neanche una roba mia in diretta ciao 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 ora tienilo tipo su con l'antenina che hai no tienilo lì vengo qua? sì tienilo lì ora sentite? dovrebbe essere ok ora sì perfetto va bene lo tengo qui ok ma che va tanto? ma figa ma cosa si vuole metterti lì ad ascoltare?